In Italia c'è dell'interesse... Facciamo il contrario, altra mappa, quella in cui mettiamo in evidenza l'Italia, no? Così almeno capiamo, qui abbiamo visto quello che ci circonda. E questo è la Cina a casa nostra. Se noi escludiamo Pula... Mazza i cinesi però, eh? Accidenti! Cioè, quando li vedi così capisci che... E' sempre scusa il Mezzogiorno d'Italia se ci fanno... A Pula, appunto, è l'unico caso diverso, il che spiega poi l'assenza del Mezzogiorno. Pula è la questione riguardo a Huawei, cioè un centro di innovazione soprattutto sulle nuove tecnologie, ma anche sul 5G. Ricorderete che qualche anno fa, non fu per niente casuale, Xi Jinping atterrò in Sardegna. Sì, come no? E fu una grande sorpresa per chi non conosceva la questione di Pula. Perché gli investimenti cinesi si concentrano tutti al nord Italia? Perché c'è la risposta alla tua domanda iniziale. Quanto conta l'Italia per la Cina? Poco o non molto? Cioè, gli serviamo come corridoio per andare da un'altra parte. Per andare nel cuore dell'Europa. Le vie della seta finiscono in Germania, finiscono a Duisburg. L'Italia è non un terminale, come viene spesso definito, ma appunto uno strumento, una condotta, per dirla, con un termine di schietamento improprio, dove Trieste, e avete fatto bene a concentrarvi su Trieste, è la pietra più preziosa per i cinesi. Perché? Perché Trieste sul piano infrastrutturale non è un porto italiano. Non possiamo nasconderci dietro un dito. Chi qui ha mai provato ad andare dal nord-est al nord-ovest o viceversa... E di chi è? Della Germania? ...como infrastrutture è ancora una città sburgica. Cioè, esiste una ferrovia antichissima che collega Trieste al cuore della Mittelo-Europa, mentre, come dicevo, attraversare l'Italia del nord, quindi non dico da sud a Trieste, figurarsi, lì entriamo nell'ambito della fantasia, ma andare dal nord-ovest al nord-est o viceversa è un'impresa quasi disumana, ancora oggi. Trieste è una città che sul piano infrastrutturale è molto poco italiana, ai cinesi questo interessa molto. Per rispondere invece alla tua domanda iniziale, ci conviene o meno, il punto è che le partite non sono quasi mai soltanto economiche, ma sono soprattutto strategiche, cioè traduco. Noi siamo parte di un impero altrui, vogliamo edulcorare, come amiamo a definirci, siamo alleati degli Stati Uniti. In Italia esistono 13.000 militari americani sul nostro suolo e avrete notato che la maggior parte di questi sono anche nel nord-est.